Una giornata di studio prima di quello che dovrebbe essere il vero confronto maratona. Il bilancio regionale preventivo è approdato nell'Aula del Consiglio per l'analisi definitiva intorno alle 14, un'ora dopo quello che era stato fissato come il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti. Ma il quadro è tutt'altro che chiaro, maggioranza e opposizione sono tutt'ora molto distanti sia sul merito che sul metodo della trattazione della materia, che per la prima volta viene affrontata con le nuove regole varate nel 2011. Non solo una legge di bilancio ma anche un documento di economia e finanza regionale articolato per missioni e azioni e non più per capitoli. Con il risultato che la prima giornata di Consiglio dedicata al bilancio se ne dovrebbe andare per la discussione generale riferita ai due documenti e al varo del DEFR, al termine della quale ci sarà un'ulteriore ora a disposizione per presentare gli emendamenti al bilancio che saranno discussi nella seconda giornata. Emendamenti che dovrebbero essere una cinquantina presentati in parte dalla maggioranza che pare voglia correggere in aula alcuni punti ancora in discussione, mentre dall'opposizione arrivano le accuse nei confronti di un testo che viene definito poco chiaro e di una maggioranza che non ascolterebbe i rilevi della minoranza. Chiarissime invece le polemiche dei 5 Stelle verso il consigliere PD Ernesto Abaterusso, condannato nei giorni scorsi a 18 mesi per truffa all'Inps, richieste di dimissioni con tanto di cartelli che il presidente Loizzo ha definito i rituali, invitando i grillini a non strumentalizzare l'aula, segnale di un clima che nelle prossime ore potrebbe diventare infuocato.